Ciao e benvenuti alla Voyager Cup del venerdì. Oggi tantissime notizie. Parleremo della Tourist Card della Riviera Ligure, parleremo un po' del Sudafrica, dell'India, dell'Indonesia, parleremo ancora di Malta con l'International Firework Festival e ancora parleremo dell'Expo Dubai 2020 che è chiuso i battenti, vedremo un po' di numeri. Infine vi porterò in Italia per gli eventi ovvero il Vinitaly, l'Audi Show e per le piccole vacanze da brivido. Ok? Ciao ciao! E lo voyager Cup! Benvenuti a tutti all'appuntamento del venerdì. Quindi oggi parliamo subito di mare, anche se il clima un pochettino non è proprio da mare in questi giorni ma ci voleva un po' di acqua. Allora parliamo della Tourist Card della Riviera Ligure che è una tessera che comprende una serie di comuni della Riviera Ligure in provincia di Savona e che vi dà la possibilità di avere degli sconti per delle agevolazioni, per gli acquisti, per gli ingressi gratuiti per gli eventi, per le visite guidate, per gli accessi ai musei, per i ristoranti, per uno sconto al ristorante e ancora nell'uso del trasporto pubblico. La Card si richiede direttamente alle strutture ricettive dei seguenti comuni, quando voi arrivate al Benga, Alassio, fino alle Ligure e ancora Loano, Laigueglia, Pietraligure, Noli, Varazze, Torvo San Giovanni, Savona e Spotorno. Insomma, è da richiedere quando voi entrate in albergo o in B&B o in appartamento. E questa tessera è da abbinare all'app Ligure in Riviera perché quest'app vi dà in tempo reale tutti gli eventi importanti che ci sono. E parlando di novità, parliamo del Sudafrica che ha allentato ulteriormente le restrizioni da Covid-19, ha tolto l'obbligo del tampone prima dell'arrivo e per arrivare, se siete vaccinati, basta il certificato di vaccinazione, il ciclo vaccinale completo e oppure se invece non ce l'avete dovete fare comunque questo tampone molecolare 72 prima dell'arrivo. In Sudafrica si può circolare senza mascherina, nei locali al chiuso invece bisogna ancora mettere la mascherina. E dopo due anni apre anche l'India e le compagnie aeree si scatenano, pensate un po', hanno organizzato ben, visto che il subcontinente indiano è molto grande e c'è molta richiesta di movimento, ben 1466 operativi settimanali, quindi di aerei che vanno e vengono, vanno e vengono. Quindi una cosa veramente alla grande con 43 città raggiunte. E anche l'Indonesia rallenta le restrizioni, tuttavia anche Bali ha aperto tuttavia, c'è da dire che c'è l'obbligo di fare il visto quando voi arrivate e ha cancellato l'obbligo di quarantena, però quando voi arrivate vi viene fatto un tampone, dovete stare fermi in albergo fino all'ottenimento del risultato, poi un altro, potete uscire dopo, poi un altro tampone vi viene fatto praticamente al terzo giorno, quindi bisogna prenotare l'albergo per quattro giorni e vi viene richiesto al momento dell'arrivo, però tra un tampone e l'altro potete circolare senza nessun tipo di problema. E detto questo, per arrivare in Indonesia ci vuole il ciclo vaccinale completo, per questo è fondamentale. E parliamo di eventi, pensate un po', che ha chiuso Expo e ha fatto dei numeri veramente eccezionali, circa 23 milioni di visitatori ed è stato un successo per gli Emirati Arabi Uniti, che hanno dimostrato di essere veramente organizzati all'altezza di eventi di questo genere. E per un evento che si chiude se ne apre un altro, dal 17 al 30 aprile a Malta c'è il Malta International Fireworks Festival, che è giunto alla sua ventunesima edizione, un festival dei fuochi artificiali, insomma ci saranno ben 72 aziende maltesi che daranno fuoco alle polveri per organizzare degli spettacoli pirotecnici eccezionali che si potranno vedere comodamente vista mare, insomma, un evento unico per appunto i fuochi artificiali. E parliamo poi di eventi invece vicini a noi, che torna il Van Italy and the City, ovvero l'evento musicale e l'evento dedicato al vino e alla viticoltura più importante d'Italia, se non d'Europa. E qui mi fermo, potrei anche allargarmi, però mi fermo. Allora, il Van Italy torna e anche il Van Italy and the City torna appunto dall'8 all'11 aprile, una serie di eventi nella città di Verona che sono dedicati allo spettacolo. Quindi una giornata dedicata al vino in fiera e poi si circola per la città, si beve ancora vino, ma si assiste anche a vari spettacoli. E fino al 4 aprile, quindi, un altro evento importante è a Bologna, l'Eudishow, che è la fiera dedicata a tutte le attività subacquee e le attività marine, insomma, tutto quello che è a contatto con i sub, le immersioni, lo snorkeling, tutto questo qui. Evento importante e molto bello, uno dei più importanti d'Europa. E infine concludiamo l'appuntamento di oggi con la Voyager Cup del venerdì, parlando delle vacanze da brevido. Quest'oggi non vi portiamo lontano, vi portiamo in Val Passeria e come vacanze da brevido, perché non provare una discesa in torrente, visto che è piovuto, il torrentismo in rafting si può fare e ancora poi, se invece volete, potete provare l'ebrezza di un parapendio in coppia, sempre in Val Passeria, partendo appunto dalla punta Cervina che si trova appunto lì. Questa era l'ultima notizia per la Voyager Cup. Se vi è piaciuto mettete like e condividete il messaggio. Vi ricordo che potete contattarci qui sotto appunto su YouTube o attraverso i nostri canali che sono TikTok, Twitter, Facebook e anche appunto qui su Instagram e su YouTube. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è lunedì, poi avremo una sorpresa lunedì da raccontarvi per una nuova goccia che faremo la prossima settimana magari in diretta da un posto caldo. Grazie e buon fine settimana. Ciao ciao!